E' bello a tutti ragazzi, io sono SantaFox e siamo finalmente arrivati al nostro terzo vlog per quanto riguarda svapo e sigarette elettroniche. Ragazzi, come sempre ho voglia di dire, vai Pino! Pino oggi è un po' ritardatario. Ragazzi, iJoy Maxo 315, dal peso deduco che sia qualcosa di veramente fantastico e speciale. Direi di partire subito, quindi come sempre non perdiamo tempo e andiamo subito all'unboxing. Perfetto ragazzi, finalmente siamo arrivati all'unboxing della iJoy Maxo 315. Allora ragazzi, come possiamo vedere all'interno della confezione possiamo trovare un cavetto USB, il manuale delle istruzioni, la carta della garanzia, 12 adesivi ragazzi, questi qua servono per abellire, ornare la vostra sigaretta a piacere vostro, ma è un più diciamo questo qua perché la sigaretta già merita tantissimo così com'è. Vediamo subito il tastino di accensione, quindi 5 tocchi per accenderlo, 5 per spegnerlo, tasto più, meno per aumentare o diminuire il vattaggio della vostra sigaretta in caso di svapo. Con 3 tocchi ragazzi possiamo entrare nel menu interno della sigaretta elettronica, come possiamo vedere possiamo scegliere il tipo di filo che utilizziamo, le potenze, tutte le varie regolazioni, ma è tutto scritto sul manuale delle istruzioni, ognuno farà quel che vuole. Vediamo subito il nostro attacco per il nostro tank. Per aprire la porta batterie ragazzi basta solamente tirare verso di voi la parte sottostante della sigaretta, alzare e abbiamo i quattro alloggiamenti per le nostre batterie. Mi raccomando fate sempre molta attenzione al polo positivo e negativo come è segnato, è segnato anche qua vicino alla sigaretta elettronica. Ragazzi non resta altro che prepararla e andare subito alla prova di svapo. Perfetto ragazzi, allora siamo arrivati adesso alla prova di svapo con la nostra iJoy Maxo 315. Abbiamo scelto un temple per fare questa prova di svapo con la sua bella resistenza da 0,14. Direi di portarla a 130 watt. Come sempre ragazzi possiamo vedere che è un po' scomoda, un po' grossolana da tenere in mano ragazzi, ma date le sue quattro batterie era anche più che logico. Ma non perdiamoci in chiacchiere e facciamo subito questa prova di svapo che non vedo l'ora. Perfetto ragazzi, la nebbia a Milano anche per quest'anno è garantita Maxo 315 della iJoy. Ragazzi, io sono sempre Santa Fox e questo è il nostro terzo vlog. Come sempre voglio ringraziare Zio Smoke perché ci fornisce il materiale e lo spazio per fare questi video. Se volete passate dalla sua pagina Facebook, Instagram, Twitter o casomai dal sito. Passate e dategli un'occhiata, c'è anche lo shop. Passate anche dalla mia pagina Facebook, Instagram, Twitter e il canale YouTube. Ragazzi, con questo è tutto. Alla prossima.